Ben ritrovati ad una nuova puntata dell'ospedale per amico. Oggi parleremo di un tema particolarmente delicato perché riguarda i bambini in ospedale, i bambini in sala operatoria e patologie molto particolari. Il dato positivo è che negli ultimi anni la tecnologia è avanzata davvero tanto e oggi ci sono dei risultati sorprendenti. Ne parliamo con il responsabile dell'attività di neurochirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera. Ben ritrovato il professor Francesco Sala. Innanzitutto che cosa fa il neurochirurgo pediatrico? Quando interviene? La neurochirurgia pediatrica si occupa di alcuni aspetti che sono peculiari del bambino. Ci sono diciamo degli ambiti che sono sovrapponibili a quello dell'adulto nel senso che i tumori cerebrali ahimè riguardano i bambini ma riguardano anche gli adulti come ad esempio la traumatologia. Viceversa alcune patologie come tutte le malformazioni congenite, le craniostenosi, il problema dell'idrocefalo è presente anche nell'adulto ma in maniera molto più marcata nel bambino. Quindi diciamo che la neurochirurgia pediatrica ha uno spettro di azione molto ampio. Perché esiste la specializzazione di neurochirurgia pediatrica? È un adagio che si ripete spesso, i bambini non sono semplicemente degli adulti in miniatura ma in realtà va detto che il bambino soprattutto il bambino piccolo ha delle sue peculiarità anche dal punto di vista proprio anatomico e fisiologico di cui bisogna tener conto nel momento in cui si va a intervenire. È vero che un bravo neurochirurgo generale può sicuramente intervenire con successo anche in ambito pediatrico perché alcune patologie sono molto simili, il gesto tecnico per certi aspetti è sovrapponibile. Però altri interventi vanno fatti in bambini molto piccoli quindi con delle attenzioni particolari. Banalmente ad esempio un bambino di pochi mesi ha una quantità di sangue, di riserve ematiche molto modesta per cui l'attenzione alle perdite ematiche durante l'intervento è fondamentale molto più di quanto uno sia in un adulto che ha diversi litri di sangue. Ma più in generale direi che la cosa fondamentale è una competenza specifica dal punto di vista, permette al termine culturale, nel senso di conoscere la fisiopatologia delle malattie che riguardano il bambino e tutto quello che ci va dietro da un punto di vista non semplicemente dell'intervento chirurgico ma della gestione sia pre che post operatoria. Ci fa un esempio di quando intervenite nel caso di malformazioni con gente. Ad esempio il problema dell'idrocefalo che è molto comune nell'infanzia c'è l'accumulo di liquido all'interno della scatola cranica legato al fatto che questo liquido che noi produciamo normalmente non circola come dovrebbe o non viene risorbito come dovrebbe, questo provoca un accumulo di questo liquido all'interno del cervello, questo provoca un aumento della pressione all'interno della testa e quindi richiede un trattamento chirurgico. Il trattamento chirurgico non è di per sé complesso dal punto di vista tecnico ma quello che è complesso è capire ad esempio le indicazioni ad un tipo di procedura piuttosto che un'altra quando intervenire. Come si presentano le malformazioni congeniti? Come vengono investigate? Le malformazioni congenite sono legate al fatto che una parte del sistema nervoso del bambino che riguarda il cervello, il midollo spinale non si sviluppa in maniera appropriata o si sviluppa in maniera incompleta oppure diciamo nella programmazione dello sviluppo del sistema nervoso avviene qualcosa che porta a uno sviluppo anomalo e alcune di queste malformazioni richiedono poi un intervento chirurgico. Diciamo che fra i capitoli anche più conosciuti c'è il problema della spina bifida, quindi bambini che nascono con una chiusura incompleta o dell'involucro del midollo spinale, le meningi e la colonna vertebrale o con una malformazione che riguarda in maniera specifica solo il midollo spinale. Che cosa accade dunque a questi bambini? Molte di queste malformazioni congenite a livello spinale possono creare quello che noi chiamiamo un midollo ancorato, quindi un midollo che non è più libero di muoversi e questo porta a una sofferenza del midollo che provoca poi una compromissione di quelle che sono le funzioni neurologiche. Il bambino può sviluppare ad esempio un problema di vescica neurologica, può sviluppare delle difficoltà dal punto di vista sensitivo motorio agli arti inferiori, può sviluppare una scoliosi, può sviluppare tutta una serie di segni clinici che sono indice di una sofferenza a livello midollare, quindi la chirurgia serve per cercare di disancorare questo midollo e rimetterlo nelle condizioni migliori per funzionare in maniera appropriata. Di solito alle donne ancora prima della gravidanza viene consigliata l'assunzione di acido folico proprio per prevenire la spina bifida, è effettivamente efficace? L'acido folico ha contribuito in maniera fondamentale a ridurre l'incidenza di spina bifida, soprattutto di quella che noi chiamiamo spina bifida aperta, cioè il mielomeningocele, che è una situazione che viene diagnosticata già durante la gravidanza e che va trattata già alla nascita, nelle prime ore di vita, perché il midollo spinale sostanzialmente arriva alla superficie della cute, non è più protetto e quindi questo oltre a creare una situazione diciamo in prospettiva di midollo ancorato, quindi con le problematiche che abbiamo citato prima, crea nell'immediato un rischio anche di infezione, quindi in questi casi va il bambino operato entro le prime 24-48 ore per diciamo ricostituire gli strati che devono proteggere il midollo e evitare il rischio di infezione e questi però poi sono bambini che andranno seguiti per tutta la vita sotto l'aspetto neurologico, fisiatrico, urologico, ma che possono avere comunque una qualità di vita assolutamente importante, la gran parte di questi bambini ad esempio ha una scolarità normale. Quando si può ottenere la diagnosi? Già in epoca prenatale? Si possono senz'altro diagnosticare anche in sede prenatale con l'ecografia e nei casi in cui ci sia un sospetto importante anche con una risonanza magnetica fetale che viene fatta alla mamma e che consente di vedere comunque il feto e quindi di poter anche fare una diagnosi prenatale anche di patologie del sistema nervoso. Quali sono dunque gli obiettivi dell'intervento? L'obiettivo nostro è intanto quello di non far peggiorare ulteriormente il bambino e poi se possiamo anche di potergli restituire parte della funzione che è andata persa. Nello specifico poi della patologia del midollo ancorato ci sono due scuole di pensiero anche a livello internazionale, una che sostiene sostanzialmente cerca di intervenire solo quando il bambino asintomatico. Noi da molti anni siamo invece legati a una scuola un po' più interventistica nel senso che cerchiamo anche nel bambino asintomatico però c'è l'evidenza di un ancoramento del midollo di intervenire proprio per cercare di evitare che si instaurino quei deficit neurologici che poi diventa molto difficile poter correggere. Un grande cambiamento sarà sicuramente rappresentato dall'avvio dell'ospedale della donna e del bambino. Mancano ormai pochi mesi che cosa cambierà per voi e per l'accoglienza dei pazienti? L'ospedale pediatrico della donna e del bambino rappresenta però una grossa aspettativa perché ci consentirà intanto di lavorare tutti sotto lo stesso tetto, mentre adesso alcuni reparti di pediatria sono a Borgoroma, la neuropsichiatria infantile, l'oncomatologia pediatrica, alcune delle pediatrie e la neonatologia, quindi questo crea ovviamente delle difficoltà dal punto di vista logistico, mentre speriamo fra un anno o giù di lì saremo tutti quanti qui a Borgo Trento. Ma al di là dell'aspetto logistico questo consente anche di fare un salto di qualità dal punto di vista proprio anche dell'organizzazione del lavoro e soprattutto da un'organizzazione che consenta di mettere davvero al centro la donna e il bambino. Credo che l'opportunità di un ospedale pediatrico stia anche nel poter fare un'esperienza unica da un punto di vista anche professionale. Io avevo l'opportunità diversi anni fa di lavorare in un ospedale canadese, in un ospedale for sick children di Toronto che è uno dei punti di riferimento a livello mondiale non solo per la neurochirurgia pediatrica ma per tutte le specialità pediatriche e in effetti forse anche per una sorta di selezione naturale nel senso che lavorare con i bambini richiede una certa attitudine, una certa sensibilità a fronte del fatto che si tratti comunque di un'esperienza difficile perché veder star male, veder soffrire un bambino è qualcosa che va contro natura, non lo accettiamo, facciamo sempre più fatica accettarlo anche per l'anziano, per il bambino è un qualcosa di inaccettabile e soprattutto si tratta di patologie molto serie, tumori, patologie che possono avere anche una prognosi non buona. Però dicevo a fronte di questo dall'altra parte confluiscono sotto lo stesso tetto di solito anche persone che hanno questo tipo di sensibilità e questo dal punto di vista professionale devo dire che è molto gratificante ed è un'esperienza molto positiva. Ci fermiamo ora per qualche istante professore, poi capiremo com'è cambiata negli anni la tecnologia in sala operatoria e quali vantaggi le innovazioni abbiano portato tra poco. Grazie. Ben ritrovati, parliamo ancora di neurochirurgia pediatrica e professore un'altra vostra grande area di intervento è quella dei tumori del cervello in età pediatrica, fanno particolarmente paura, è importante investigarli, diagnosticarli nel momento giusto. Chiaramente lavorare in un centro di terzo livello con tutte le specialità pediatrica è fondamentale, però direi che è altrettanto importante il ruolo del pediatra di base perché in realtà sono loro che spesso vedono per primo il bambino e soprattutto nell'ambito dei tumori cerebrali innanzitutto assicuriamo, dicendo che sono fortunatamente patologie molto rare come numeri in senso assoluto, però ci sono ed è importante poterli diagnosticare presto. Quindi il consiglio che posso dare è che nel dubbio è sempre meglio inviare il bambino eventualmente per un consulto in più, meglio fare un esame in più piuttosto che un esame in meno. Anche perché nel bambino i sintomi di esordio possono alcune volte essere anche molto specifici, sono frequenti in età pediatrica il tumore della fossa cranica posteriore e questi esordiscono spesso anche banalmente con cefalea, vomito, che continuano a persistere, vengono spesso presi magari per più grande tipo gastroenterologico, però la cefalea ci sta già meno, oppure sono bambini che possono avere delle iniziali difficoltà nell'equilibrio, possono essere particolarmente irritabili, alcune volte anche queste problematiche associate a un modifica nel rendimento scolastico, possono essere dei campanelli d'allarme, quindi è importante che il pediatra abbia la consapevolezza anche di questa eventualità e nel dubbio se mai invia il bambino per una vista. Noi abbiamo l'ambulatorio pediatra, divisionale pediatrico, di neurosciusio pediatrica tutti i mesi e quindi vediamo molti bambini, meglio vederli per niente piuttosto che arrivare a età di ogni anno. Quando si decide che la scelta operatoria è la più indicata, appunto il bambino, arriva in sala e qui davvero negli anni ci sono stati grandi traguardi e grandi miglioramenti. Direi che le grandi tappe della neurochirurgia pediatrica di fatto riflettono le grandi tappe della neurochirurgia, nel senso che la tecnologia che utilizziamo è sostanzialmente la stessa e quindi se negli anni 70-80 la parte della padrona l'ha fatto un po' il microscopio operatorio, poi c'è stato l'avanzamento delle tecniche di neuroimaging con la risonanza magnetica. Negli ultimi 10-15 anni sicuramente la neuronavigazione da una parte che è sostanzialmente il nostro tom-tom intraoperatorio, nel senso che oggi abbiamo la possibilità di avere intanto tutta una serie di informazioni prima di andare in sala operatoria, anche dal punto di vista funzionale, non so, dobbiamo ad esempio operare un paziente che ha una lesione nelle aree del cervello che regolano le funzioni motorie, noi possiamo ad esempio con la risonanza magnetica funzionale o con tecniche cosiddette di trattografia, sapere già prima di andare in sala operatoria dove queste aree cerebrali importanti che dobbiamo assolutamente rispettare sono situate rispetto alla zona dove c'è il tumore. Che cosa consente di realizzare questa tecnologia? Queste informazioni le possiamo portare in sala operatoria e il sistema di neuronavigazione ci consente, un po' come avere il satellitare che ci consente di dire in ogni momento dove siamo, questo lo possiamo fare anche per gli interventi al cervello e quindi in ogni momento sapere dove è situato il nostro target chirurgico adesso questo invece ci consente di avere sempre sotto controllo quella che è un po' la traiettoria e il percorso che noi dobbiamo seguire, questo valide sia per la chirurgia dell'adulto che per la chirurgia del bambino ovviamente. Il controllo insomma per il neurochirurgo pediatrico è fondamentale in sala operatoria? Il controllo del funzionamento del sistema nervoso è sicuramente essenziale e questo mi dà l'occasione per accennare all'altro grosso capitolo che ha sicuramente rivoluzionato un po' il nostro modo di operare che è stata l'introduzione della neurofisiologia intraoperatoria cioè la possibilità di utilizzare tecniche che sono già da molti anni in uso ad esempio neurofisiologia clinica, la registrazione di un elettroencefalogramma, lo studio dei potenziali evocati per tenere sotto controllo il sistema nervoso ovviamente allo scopo di evitare, di poterlo danneggiare nel corso di un intervento di neurochirurgia. Quello che noi facciamo è mandare degli stimoli al sistema nervoso sia alle pie motori, le vie sensitive o altre vie che noi vogliamo preservare registrare la risposta a questo stimolo questo stimolo passa attraverso la zona in cui dobbiamo andare ad operare e quindi se nella nostra azione chirurgica rischiamo di creare una situazione di potenziale rischio di potenziale danno, il neurofisiologo che sta al monitor e vede il tracciato ci informa che sta succedendo qualcosa quindi questo ci porta a correggere e modificare la strategia chirurgica per evitare o minimizzare il rischio di un danno neurologico. Oggi si interviene nella stragrande maggioranza dei casi? È più difficile oggi parlare di lesioni inoperabili rispetto a quanto erano vent'anni fa Certo esistono anche oggi delle lesioni che o per la loro stensione o perché infiltrano delle strutture altamente ricche da un punto di vista funzionale e quindi andarle a violare esporrebbe il paziente a rischio di danni neurologici molto importanti o a rischio di vita quindi esistono ancora più che delle arde le situazioni off-limits legate al tipo di patologia, alle rapporti che il tumore ad esempio ha con alcune zone del cervello però sicuramente queste situazioni si stanno sempre più ridimensionando grazie proprio anche all'innovazione tecnologica Sicuramente non possiamo ancora operare tutto ma possiamo anche soprattutto in ambito oncologico operare tumori che anni fa non avremmo mai affrontato L'obiettivo insomma è preservare al massimo le funzioni vitali neurologiche del bambino Diciamo che cerchiamo di spingerci sempre un po' più avanti nel limite chirurgico ma questo va assolutamente fatto solo ed esclusivamente se si è in grado di preservare le funzioni neurologiche quindi diciamo l'aggressività chirurgico non deve mai andare a mettere a repentaglio quella che è la funzione neurologica del paziente questa è un po' la linea sottile sulla quale dobbiamo camminare tutti i giorni per cercare di ottenere il miglior risultato dal punto di vista oncologico e il miglior risultato anche soprattutto dal punto di vista di preservare il paziente dal punto di vista funzionale Abbiamo fatto un po' un viaggio attraverso le grandi innovazioni della medicina e della chirurgia nel vostro caso il futuro che cosa riserverà secondo me? Stiamo incominciando a conoscere meglio il nemico e quindi questo in ambito oncologico sicuramente apre delle prospettive importanti Noi per moltissimi anni e ancora adesso siamo legati al concetto che determinate aree cerebrali sono deputate a funzioni specifiche l'area della parola, l'area del movimento, l'area della corteccia visiva e via dicendo Ci siamo accorti che di fatto se noi siamo in grado di interrogare il cervello in maniera appropriata non c'è nessuna area che non sia eloquene, soprattutto il cervello è importante non è che se ne possa buttarvi una parte però stiamo imparando che alcune aree sono essenziali cioè quelle proprio non le possiamo toccare o possiamo toccarle solo nella misura in cui il cervello di quel paziente si è in qualche modo riorganizzato ha avuto fenomeni di neuroplasticità quindi anche dal punto di vista della chirurgia cerebrale stiamo ora affrontando una rivoluzione copernicana per certi aspetti proprio nel modo di pensare, di affrontare, di curare il cervello grazie professor Sala, grazie anche a voi per averci seguito l'ospedale per amico, torna la settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti